Il Comune di Pesaro guarda con fiducia l'arretramento della ferrovia e comincia a pensare all'annessa realizzazione della cosiddetta Green Line. Oggi è infatti stato approvato in giunta lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune e Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani per la riqualificazione e rigenerazione urbana connessa alla dismissione dell'attuale linea ferroviaria, nello specifico fra la Fornace Mancini e Fosso Seiore. Dopo l'annuncio dell'arrivo dei fondi destinati all'ammodernamento e il miglioramento della linea adriatica nel quale rientra anche il tratto marchigiano di Pesaro e di Fano per 1 miliardo e 800 milioni di euro, il protocollo consentirà al Comune di passare ad una fase di progettazione. Il Sindaco Ricci punta da oltre un anno all'idea di realizzare un'infrastruttura delle benessere dedicata al trasporto pubblico locale elettrico. Una linea verde dove potranno circolare mezzi elettrici pubblici, biciclette e pedoni, una pratica già positivamente sperimentata in metropoli come New York, Parigi o Valencia. Lo scopo del documento, che sarà firmato a Roma nelle prossime settimane, è infatti quello di definire un piano di azioni condiviso per realizzare un workshop per la riqualificazione e valorizzazione delle aree riguardanti la conversione della linea ferroviaria dismessa. Un lavoro che si snoderà in due fasi nei primi mesi del 2024. La prima fase prevede il coinvolgimento di figure del mondo della cultura architettonica, esperti di rigenerazione urbana, in un dibattito che dovrà coinvolgere cittadini, stakeholder e associazioni di categoria. Nella seconda fase si approfondirà l'elaborazione di alcuni scenari di sviluppo urbano, obiettivi che il Comune vuole centrare avvalendosi anche del supporto di un ente scientifico di ricerca specializzato in trasformazioni urbani conseguenti a rifunzionalizzazioni di assi ferroviari in via di dismissione.